Non si scrive, facciamo un peggio e un peggio, non è benissimo Catale, c'è che ho visto? Ha visto la tua buchiera? Vai, ha visto la mia buchiera, mi lascia il mio cammino e va Non ho liceo di amico, ma non lo faccio il mio cammino Non lo faccio il mio cammino, non lo faccio il mio cammino Non lo faccio il mio cammino, non lo faccio il mio cammino Grazie 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 Grazie